Buongiorno, io mi chiamo Arianna, faccio parte di Amece VEITI. Amece sta per la funzione Maison d'Enfant per la Cultura e l'Educazione ed è un'associazione che nasce a termini di VEITI. Sono qua con alcune volontarie? Io sono Luca, faccio parte del gruppo Giovanni, una situazione che si è volontariato e facciamo varie attività con varie ragazzi. Io sono Beniamino e ho conosciuto questa situazione per gli scambi. Finanziati da Erasmus Basso, per esempio quest'anno abbiamo organizzato uno scambio all'insegna della sostenibilità, partendo appunto dalla conciuglievolezza del gruppo. Ciao, sono Beniamino e faccio un tagliato per Amece VEITI principalmente per l'attività della scuola dove abbiamo l'obiettivo di aiutare i bambini a studiare e recuperare le dimensioni scolastiche per Facciare Rhalge e robarti anche per l'attività sei poco di sul